Salve, mi chiamo Lorenzo Rossetti, ho 27 anni e sono diplomato come ragioniere programmatone. Ho frequentato due corsi universitari, economia e diritto, che poi a causa dei problemi con le barriere architettoniche non ho potuto portare a termine. Nel frattempo ho conseguito anche le CTL, la potente europea del computer. Il mio sogno più grande sarebbe quello di trovare un lavoro consono alla mia qualifica di ragioniere. Mi sono cimentato anche come scrittore pubblicando un'autobiografia acquistabile anche online. Da maggio 2010 faccio parte di un'associazione di volontariati giù la barriera con la quale portiamo avanti numerosi progetti culturali. Nel tempo libero pratico moltissimo sport, nuoto, palestra e dubitazioni, questi ultimi due degli sport che preferisco in assoluto. Ma il traguardo più grande che ho raggiunto è stato il conseguimento della patente B nel giugno del 2003 e presto arriverò a conseguire anche la patente A. Dimenticavo, sono disabile. Grazie. Grazie.